Libri in Borgo è un'iniziativa per valorizzare le realtà del territorio, chi scrive e chi li pubblica. Assolutamente sì, siamo molto contenti che anche per quest'anno sia stata scelta Lavagna come location per questo evento che appunto ci rende veramente una città che legge. Ci siamo candidati nel 2022, nel 2023 abbiamo assunto questo titolo e quindi quale migliore occasione per poter festeggiare insieme. Tante sono le attività in programma per questi due giorni ma anche appunto le attività che seguiranno. Ci sono circa una ventina di espositori, qualcosina di più, c'è uno spazio dedicato ai lettori più piccoli e ci sono associazioni e anche artisti in erba diciamo. Qui troviamo anche realtà locali, autori ed editori. Sì, ci sono diverse realtà del territorio come Panese Edizioni che tra l'altro si occupa dell'organizzazione, Altre Voce Edizioni che è una casa editrice che non ha sede nel territorio però ha molte figure, sono di qua. E poi c'è la libreria Fieschi di Lavagna che ha collaborato all'organizzazione, la libreria Legge e Sogna di Sestri Levante che si occupa dello spazio bambini. Quindi insomma ci sono tante realtà del territorio ma anche diverse che vengono da fuori. Ecco, il Tiguglia è un territorio ricco di queste iniziative, non è facile trovare così tanta ricchezza? No, io credo che sia una zona ricca, che ci sia voglia, fame di cultura. E infatti diciamo che ci sono diverse manifestazioni che fanno cultura e noi siamo contenti di farlo qua a Lavagna dove veramente ci hanno accolto a braccia aperte e ci hanno dato la possibilità di organizzare questo evento comunque nel porticato Brignardello che è davvero meraviglioso. Tempo d'estate, sia più tempo libero, è un buon libro, è sempre un amico da portare anche sotto l'ombrellone. In quest'estate cosa consigliate? L'estate è perfetta per leggere ma io credo che si debba leggere tutto l'anno. Detto questo, io personalmente amo leggere i thriller e trovo che siano la lettura adatta da portare sotto l'ombrellone ma anche i libri rosa o anche la narrativa. Insomma dipende un po' dai gusti di ognuno. Magari anche un libro di viaggi visto che è il periodo giusto per organizzarne uno.